Negli Stati Uniti l'Agenzia Federale dell'Aviazione indaga su un video intitolato Flying Gun pubblicato in rete. Nel filmato di 14 secondi si vede uno controverso drone dotato di un'arma automatica che spara quattro colpi d'arma da fuoco in un bosco. A realizzare questo quadrilotore illegale sarebbe stato uno studente di 18 anni.